Il circolo è gioco, il circolo è unione, ti siedi e giochi. In quella stanza entriamo, solo noi. Siamo in quattro, persone diverse, facce diverse, stili di gioco differenti. Gli altri non li conosco. Ancora che mi stanno a cercare, non riescono a prendermi. Li leggo i giornali, continuo a fare stranzate. Mi servono per vivere. Già la convivenza è un grande passo, il matrimonio è ancora di più, facciamo una cosa alla volta. Otto mesi mi sono bastati per capire che tu sei mia. Il problema lo sappiamo, lo so io, lo sa lei, è questo tappo la mia creatività. Di questo ne ho parlato anche con il suo agente. Secondo me stiamo facendo un buco nell'acqua. Amore, il problema è che questo non esiste, riesci sempre a sfuggire. Il mazziere dà le carte. Lo spettacolo comincia e tutto il mondo resta fuori. Ora, dimmi, giocherai anche tu. Che cosa vuoi da me? Parlare, come non succede da tempo. Sei bene che non dovremmo parlarci. Le persone pensano che le parole siano la cura, però la pace non arriva mai. Tu credi che io stia vivendo tutto questo con gioia? Che io sia contento di buttare giù quella merda che mi hai fatto per scrivere? Continuate a cercare. Vi ho seguiti! A girare come trottola. Eri con lui! A perdere fiato. Mi devi dire chi cazzo è, tu lo sai, lo sai chi è! Cazzo! 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 Grazie a tutti.